Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo brevissimo tutorial di oggi andremo a vedere come prelevare una criptovaluta da Crypto.com Applicazione a Binance. Andiamo a vedere come si fa dopo la sigla. Allora vi faccio vedere come prelevare una criptovaluta da Crypto.com Applicazione verso Binance. Allora clicco in mezzo, Crypto Wallet e vado a vedere le criptovalute che voglio trasferire. In questo caso voglio trasferire Sandbox. Allora cosa devo fare? Visto che da Crypto.com la devo inviare a Binance, quindi Binance è ricevente, vado su Binance, Wallet, Deposita, vado a selezionare Sandbox perché io voglio ricevere Sandbox. Perfetto. E vedete che mi ha generato l'address o eventualmente il QR code. Io in questo caso copio l'indirizzo, vedete indirizzo copiato. Torno su Crypto.com Vado su Sandbox Trasferisci perché lo devo trasferire in un wallet esterno Prelevo Wallet esterno Perché non lo devo trasferire tra utenti Crypto.com, dall'exchange o il wallet di Crypto.com Ma lo devo mandare a un wallet esterno che è quello di Binance. Quindi clicchiamo Wallet esterno Aggiungi Wallet Copio l'indirizzo Lo rinomino Binance Sand Perfetto Perfetto Ora vado a controllare l'email Confermo l'email Perfetto, quindi adesso Binance Send, il mio wallet di Sandbox è stato memorizzato. Tanto sarà sempre quello, non cambierà Inserisco il totale di Sandbox che voglio inviare a Binance e faccio prelievo Confermo La richiesta di prelievo è stata eseguita Io praticamente adesso, tra pochi minuti, andrò a ricevere il quantitativo di Sandbox che ho inviato da Crypto.com a Binance Accesso velocemente a Binance tramite computer per farmi vedere che ho ricevuto i miei Sandbox Come potete vedere ho la notifica Deposito avvenuto con successo L'ora, la quantità di Sandbox, annetto delle fee e basta Io praticamente da Crypto.com in pochi minuti ho ricevuto la mia criptovaluta sul wallet di Binance Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo brevissimo tutorial Vi ringrazio per l'attenzione Vi rinnovo i miei inviti ad iscrivervi al mio canale YouTube E ad unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi Noi ci vediamo domani con un altro video Ciao a tutti, buona giornata e buon weekend Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti